Cari soci, come già annunciato, oggi è il mio ultimo giorno in confrommerso del mandamento di Tiene. Con questo video desidero manifestare un sentito e ringraziamento per il lavoro svolto a fianco di tutti voi. Abbiamo affrontato tante sfide assieme, tutte quelle che il mondo del commercio in questo continuo e vorticoso cambiamento ci ha messo in alzi in questi vent'anni. Il mercato in questi anni si è dimostrato in continuo cambiamento e ci ha messo spesso alla prova. Ho avuto però il privilegio di lavorare per una delle associazioni più importanti e più rappresentative del nostro territorio. In particolare vorrei esprimere la mia gratitudine e la mia riconoscenza a tutte le persone che ho incontrato in questi anni, sindaci, amministrazioni comunali, gli organi di stampa, forze dell'ordine, le associazioni di categoria, ma in particolare il ringraziamento va a tutti voi soci. Spero di essere stato all'attezza delle vostre aspettative e mi auguro che abbiate potuto apprezzare nel tempo il mio operato. Lascio una struttura solida e con personale competente. Rinnovo la mia più sincera gratitudine a tutti voi soci e ci rincontreremo sicuramente e sarà sempre un piacere salutarvi. Grazie e arrivederci. Grazie. Grazie.